L'idea che c'eravamo fatti, purtroppo, corrisponde alla realtà. Emozionata? Benvenuti e grazie per essere qui. Sei preoccupata? Ora vuoi dire come ti chiami? Guarda che se continui così finisce che me la dimentico la tua voce. Noi non siamo responsabili solo per quello che facciamo, ma anche per quello che non facciamo. Che fai? Sai qual è la verità, Antonio? La verità è che non sei mai stato un granché come produttore. E i suoi genitori si fideranno di uno come te. Oh, ma che ti inventi? Non c'è bisogno di ricordi. Vi sentivo esclusa, proprio come ci si sente quando i più forti scelgono le loro squadre. Merda, merda, merda! E tu rimani sempre l'ultima. E sai che non c'è nulla che puoi fare per cambiare le cose? Perché a loro occhi rimarrai sempre la più sfigata. E io vorrei stare bu comunque tutte le tifani pentoltore. E io vorrei stare buc 해� 재ro! Au revoir. E io vorrei کےCCa